17 giugno 1974. A Padova, un commando di terroristi armati fa irruzione nella sede del Movimento Sociale Italiano e uccide Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola. Sono i primi omicidi compiuti dalle Brigate Rosse. Secondo quanto ricostruito nel processo di appello, si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. I due sarebbero stati assassinati con un colpo di pistola alla testa.